Tra le priorità di questo 2016 la personale lotta contro la ASL unica? Ma non è una personale lotta perché non è così. Io credo che la ASL unica sia un errore. L'ho detto e ribadito in più occasioni anche al governatore, abbiamo fatto un consiglio comunale straordinario per ribadire questo. Sono preoccupato, sono preoccupato perché con l'applicazione della normativa europea, volendo garantire i turni così come l'Europa ci dice, ci sarebbe bisogno di 600 unità in più. E allora è il momento delle scelte. Io sono come Presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci, ne parlo spesso con il nostro Direttore Generale e vorrei convocare un tavolo permanente sulla sanità al quale dovranno partecipare tutti quanti le istituzioni, l'ASL ovviamente, la Regione, i consiglieri regionali per cercare di aiutare la nostra ASL a fare le scelte giuste e noi sindaci magari mettere da parte un po' di campanilismo che non giove in questo momento la sanità. Ripeto, la sanità è importante e io come prima autorità sanitaria la devo garantire nella mia città e direi in tutto il territorio provinciale. Ha avuto risposta positiva sulla richiesta del tavolo permanente? Si farà? Parteciperanno? Guardi, è una mia proposta che oggi ho lanciato, vedremo nei prossimi giorni, ma io credo di sì. Credo che tutti i sindaci vogliono dire la loro, tutti gli amministratori vorranno dire la loro su un tema così importante. Mi fa piacere che la Regione ha rinviata questa scelta, io vorrei, insomma, farò la mia battaglia personale perché la rinvida il tutto, l'ASL unica non porta niente, lo dimostrano le marche.